calcola il numero di ossidazione del composto i o 3 meno questo è un ione poliatomico andiamo a vedere le regole dalle regole sappiamo che se abbiamo un composto poliatomico un ione poliatomico la somma dei numeri di ossidazione deve essere uguale alle cariche quindi in questo caso la somma sarà uguale a meno 1 se so che l'ossigeno a numero di ossidazione nella maggior parte dei casi meno 2 e in questo composto è meno 2 io devo fare meno 2 per 3 fa meno 6 però devo sommare un tot di cariche positive a questo meno 6 affinché la somma totale sia meno 1 quindi più 5 perché se io ho 6 cariche negative e gli aggiungo 5 cariche positive avrò come caricanetta risultante meno 1 che è la carica netta di questo ione poliatomico facciamo un altro esempio sempre su ioni poliatomici calcoliamo il composto ClO3 meno l'ossigeno anche qui ha numero di ossidazione meno 2 meno 2 per meno 3 fa meno 6 però la carica totale di questo ione poliatomico deve essere meno 1 quindi devo aggiungere un tot di cariche positive che mi faccia arrivare la carica a meno 1 quindi anche qui più 5 se vi ricordate abbiamo detto che nella maggior parte dei casi il numero di ossidazione del cloro, dello iodio e del bromo è sempre meno 1 tranne nei casi in cui si legano con atomi più elettronegativi di loro quindi come sappiamo l'ossigeno è l'elemento fra i più elettronegativi della tavola periodica infatti è l'elemento più elettronegativo però dopo il cloro infatti se noi abbiamo il composto OF2 in questo composto qual è il numero di ossidazione dell'ossigeno? la regola ce lo dà ma possiamo anche calcolarlo se noi sappiamo che il numero di ossidazione del cloro è sempre meno 1 meno 1 per 2 fa meno 2 siccome la somma in questo caso deve essere 0 allora il numero di ossidazione dell'ossigeno in questo composto e solo ed esclusivamente in questo composto è più 2 e il motivo è presso detto noi attribuiamo gli elettroni di legame all'atomo più elettronegativo in questo caso abbiamo che il fluoro è più elettronegativo dell'ossigeno quindi gli elettroni si spostano dalla parte del fluoro per cui l'ossigeno avrà una carica positiva